Nuova, non c'era alcuna possibilità, ma lui doveva scoprire dove questa strada aperta dal caso li avrebbe condotti. Quali sarebbero stati i risultati di questo empiricismo disperato? E che sorpresa ebbe quando scoprì che gli studenti, lasciati a se stessi, riuscirono di questo difficile compito, non meno bene di quanto avrebbero fatto molti francesi. Il desiderio era dunque tutto ciò che era necessario per riuscire. Tutti gli uomini sarebbero quindi stati potenzialmente in grado di capire ciò che quelli avevano fatto e compreso. Quindi questa rete, mi è sembrato che il risultato alla fine fosse stato comunque raggiunto nonostante non si capisse la tecnica.